Il Tre Sorgenti si avvia verso lo scioglimento. Il Consorzio Acquedottistico, costituito circa un secolo fa da sette comuni agrigentini con lo scopo di fornire acqua potabile ai residenti delle città coinvolte, ha dovuto cedere le proprie reti per effetto della legge Galli al Consorzio d'Ambito Atoidrico, che le girerà a sua volta al gestore del servizio, cioè Girgenti Acque. L'Assemblea dei sindaci dei comuni di Licata, Canicattì, Campobello di Licata, Ravanusa, Grotte, Palma di Montechiaro e Racalmuto, con il parere contrario soltanto del sindaco di Palma di Montechiaro, mentre Campobello e Grotte si sono riservati di coinvolgere i propri consigli comunali, ha infatti deliberato, dopo la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque e del parere del Dipartimento regionale, di consegnare le reti al lato idrico. Di fatto, quindi, venendo meno l'oggetto sociale, l'Assemblea dei sindaci ha deliberato lo scioglimento, che avverrà con un iter da attivare nei prossimi mesi. Ormai il Consorzio non aveva motivo di esistere, spiega il sindaco di Ravanusa, Carmelo D'Angelo, uno dei promotori dell'Assemblea del Tresorgenti, e non potevamo permetterci di aumentare il contenzioso collato idrico, alla luce del provvedimento del Tribunale delle Acque e del parere dell'assessorato. Per il presidente del Tresorgenti, Gettano Moscato, però è prematuro parlare di scioglimento del Consorzio. Per giungere allo scioglimento, spiega Moscato, deve essere attivata una procedura particolare che tenga conto di tanti aspetti del patrimonio dell'ente, del bilancio e dei dipendenti che lavorano presso il Consorzio. Al momento l'Assemblea dei Sindaci ha solo provveduto a consegnare le reti al lato idrico. E a poche ore dall'Assemblea dei Soci del Tresorgenti, il commissario straordinario della provincia di Agrigento, Alessandra Di Liberto, nella duplice veste di commissario del lato idrico, ha provveduto a riunire le parti in causa per iniziare la consegna attraverso una ricognizione tecnica di tutte le reti gestite dal Consorzio Tresorgenti, anche per verificare la presenza di eventuali allacci non censi e contestamente costituire un tavolo tecnico tra i tre sorgenti. Girgenti Acque e Sicilia Acque, per definire il contenzioso tuttora in corso. Dal commissario Alessandra Di Liberto parte quindi il percorso per la consegna definitiva delle reti del Consorzio Tresorgenti a Girgenti Acque, in modo da garantire una gestione unica per l'intera provincia, così come stabilito dalle norme vigenti in materia di reti idriche. All'incontro hanno partecipato i vertici del lato idrico del Consorzio Tresorgenti, rappresentato dai comuni di Campobello di Licata, Canicattini, Cata, Grotta e Ragalmuto, oltre alla dottoressa Brescia della Prefettura. di Agrigento erano assenti soltanto all'incontro i rappresentanti dei comuni di Ravanusa e Palma di Montechiaro.